Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe, con un video molto rapido ragazzi, perché ieri sera, come da previsione, è arrivato il Prime Access per Titania Prime. E quindi, come ormai consuetudine, faccio un piccolo video per segnalarvi le reliquie dove potete trovare le varie parti Prime per creare la versione Prime di Titania e le armi che arrivano con lei, che sono il Corinth e il Pangolin. Ho preparato a tal proposito, come sempre, degli schemini, quindi andiamo a vederli assieme ragazzi. Devo dire che Titania Prime esteticamente, per quel poco che ho visto, mi piace abbastanza. Nella sua versione normale non l'ho mai usata moltissimo come Warframe, quindi questa potrebbe essere la volta buona che imparo ad utilizzarla. In questo Prime Access non ci sono grosse complicazioni per riuscire a trovare i pezzi da quel che ho potuto vedere se non fosse proprio per i sistemi di Titania Prime che sono il drop raro della Axie T5. Per il resto, appunto, è un Access Prime abbastanza facile da fare, per quel che ho avuto modo di vedere, senza pezzi doppi come ultimamente era la norma, e diciamo che è strutturato grosso modo come l'Access Prime di Chroma. Non sto a farvi vedere tutte le varie missioni dove potete ottenere queste reliquie, anche perché la lista sarebbe veramente molto lunga, ragazzi, e non avrebbe tanto senso, secondo me. Vi basti sapere che sono state aggiornate anche le drop list dell'operazione Scarlet Spear, e quindi queste reliquie sono droppabili anche nel corso di queste missioni. E quindi, ragazzi, oltre a fare l'operazione, possiamo anche iniziare a farmare reliquie per ottenere Titania Prime e le sue armi. Come in ogni Prime Access sono disponibili anche degli accessori, in questo caso una Saiandana e una skin per tutte le vostre Arquing, però questi, come al solito, sono disponibili soltanto per l'acquisto. E visto che il prezzo è sempre molto proibitivo, si parla di 45€, non me la sento sinceramente di consigliarveli. Bene, ragazzi, detto questo, io direi che per questo video è tutto, e quindi vi saluto, vi auguro buona caccia e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!